Mi raccomando ragazzi, spolliciate ancora, iscrivetevi al canale, arriviamo ad altri 5.000 like Vai a casa! E buon ragazzi, benvenuti in questo video, come sempre sui Tecnoliti Siamo tornati ragazzi in un nuovissimo troll, dato che nel precedente video abbiamo già superato i 5.000 like Oggi ragazzi, a questo giro, la vittima, la celebrità che useremo E a questo giro ragazzi, la celebrità che useremo come sempre, l'avete deciso voi Ecco qua il commento ragazzi E infatti andremo a usare Lionel Messi, dato che un sacco di voi me l'avete spammato di brutto Mi raccomando ragazzi, scendete anche qui sotto in descrizione Premete sul primo link che trovate, che è quello del canale di Money Iscrivetevi perché tra poco arriverà a 10.000 iscritti Perché appunto quando arriverà a 10.000 iscritti, ritornerà qua a fare video in due su Azar Per trollare il più possibile Detto ciò ragazzi, linea al nostro Messi Lei non è il Messi No, cioè No, lei è il Messi veramente Mi ha appassionato È veramente lui Guarda Guarda Uè Messi, Messi, Messi Dai sono rimaste male Ma non fai il video su YouTube, ma io ti conosco Ma è Messi Ma non fai il video, ma io ti conosco Oh, sì, io Hola Hola Guarda, guarda, guarda Oh Hola Messi, hola No, va bene No, non è vero No No No, non ti arrabbiare che ti stai satanando Non ti arrabbiare Rilassati Rilassati Rispira con me Tranquilla, tranquilla Non è successo niente Ti sei solo fatta trollare Ok Ciao Come ti chiami? Non è Messi Ma che Messi? Messi è È Messi Ma non è Messi È Messi Ma non si esce Ma non è Messi E fatti vedere Ma non si esce Bisogna stare a casa Eh, Messi Messi No No Lei è riuscita a fare la ramanzina a Messi Dicendogli Non si esce C'è uno e uno Ciao, ciao, ciao Ciao, buona serata Ciao Ciao Adesso tu l'hai insultato Però poi ti sei detto Ma forse è Messi Che bello Vai a casa Cioè ma tu non c'hai manco fatto caso che era Messi L'unica cosa che gli hai detto Vai a casa perché in macchina c'è il coronavirus Messi 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 È la strada Guardi Zack Dai che fai l'incidente Dai che fai l'incidente Messi Sei schiantati Forza Ronaldo Forza Ronaldo Messi 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 Ma tu franzi fuori di testa tua Li fa schianta Ti schianta Sai che Fino a ieri stavo guardando i tuoi video No Sei serio? Mi ha fatto adesso Adesso l'ho detto Stasera faccio azar Spero di beccarlo Sei un grande Bella bro Certo vai Bella Bella bro Messi 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 Che pezzo è tu Messi 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 Come va Messi Messi Alla Messi Galaxy ci sono oggi ci sono oggi oh oh messi messi ahahah 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 oh messi ahahah 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 eh messi facciamo così ti faccio fare lo screen e dici che hai fatto una videochiamata commessi ai tuoi amici ti piace siete dei grandi raga bella raga me ha messi messi oh messi messi e ci avevi fatto credo frate dov'è messi oddio messi e ci da bene però ho detto ma devo inviare lo screen al mio amico ho detto ma la messi ho visto che grande bro ti giuro messi non ci sto credendo no nooo oi ti giuro che ha messi eh wow wow messi ahahahahah ahahah ahahahahah sei rimasto male ahahahahah ahahah 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 ma c'è non c'è credo oh compa c'è messi c'è messi ahahahahah ahahah ahahahahah ma da che pace guarda bravo 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 giuro che sia bravo grande messi o messi dove messi no siete grande messi grande messi grande messi grande dove è andato messi guarda che faccio ci è rimasto male però c'era qualcosa di strano perché messi con le canzoni con le tante e per me siamo arrivati fino al fin di questo video mi raccomando ragazzi spoliciate di brutto e andatevi a recuperare i vecchi video fatti con la zara ad esempio il troll fatto con cristiano ronaldo sfera e basta galli e le tre lamborghini detto ciao ragazzi spoliciate arriviamo a 5.000 like per un nuovissimo troll iscrivetevi al canale attivate la campanina e direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video bella playerini ciao 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 ciao